Buongiorno a tutti, buon lavoro. Buongiorno a tutti, vi informo che come prima cosa siamo stamattina, prima del Consiglio dei Ministri, che è terminato da poco, ci siamo riuniti per la manovra economica, è un ulteriore passaggio che stiamo facendo per quanto riguarda i dettagli e la messa a punto di quella che costituirà la manovra economica che presenteremo al Paese. Continueremo ancora nel pomeriggio, quindi prevengo qualche domanda che ci verrà fatta, saremo sempre lì a curare tutti i dettagli fino all'ultimo, fino a quando delibereremo in Consiglio dei Ministri la nota aggiuntiva al DEF. Venendo invece al Consiglio dei Ministri, oggi abbiamo, tra l'ordine del giorno, c'era tra i provvedimenti più significativi. Il più significativo che abbiamo adottato è il cosiddetto decreto immigrazione. Abbiamo, alla fine, rispetto all'originaria formulazione, abbiamo unificato in un unico decreto i due che originalmente erano stati presentati, immigrazione e sicurezza. Abbiamo pensato che sia più funzionale, anche in ragione della complementarietà di materia, unificarli in un'unica struttura normativa, per cui abbiamo deliberato un decreto immigrazione che contiene varie norme. L'obiettivo è quello di, poi lascerò ovviamente la parola al Vice Presidente Ministro Salvini, l'obiettivo è quello di operare, cosa che in effetti non era stato fatto da anni, una riorganizzazione razionale dell'intero sistema di riconoscimento della protezione internazionale e anche le forme di tutela complementare. Per adeguarle un po' agli standard anche europei, cioè ci siamo accorti, studiando in particolare gli uffici con il alviminale che supportano il Ministro, ci siamo accorti che avevamo dei disallineamenti significativi rispetto alle discipline che sono attualmente vigenti nei restanti paesi dell'Unione Europea. Allora siamo intervenuti ovviamente anche col fine di affrontare in modo più efficace l'emergenza terrorismo. Quindi in un quadro di assoluta garanzia per quel che riguarda la tutela dei diritti fondamentali delle persone, in un quadro di assoluta garanzia per quel che riguarda le convenzioni internazionali in cui l'Italia aderisce e i principi che sono sia nella nostra Costituzione che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nei trattati. Noi però andiamo a operare un sistema in qualche modo di riordine e di revisione per una più efficace disciplina. Una parte che considero integrante e molto significativa di questo provvedimento, di questo decreto legge, è anche quella che più direttamente contrasta il terrorismo, la criminalità organizzata di tipo mafioso perché vi sono varie norme che contemplano lo scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziaria, norme per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminose negli enti locali e anche norme per migliorare, anche queste riteniamo molto significative, la funzionalità dell'Agenzia nazionale che presiede, si occupa dei beni sequestrati e confiscati alla comunità organizzata. Parlato anche tanto, lascio adesso al Vicepresidente Salvini di entrare nel merito più specifico del provvedimento. Io ringrazio Giuseppe, ringrazio Luigi, ringrazio tutti i colleghi che hanno approvato all'unanimità quindi evidentemente smentendo tutte le potenziali e inesistenti polemiche che a leggere i giornali avrebbero tempestato la vita di questo decreto che adesso arriva tranquillamente all'esame del Parlamento che potrà arricchirlo, potrà, anzi vi preannuncio già che da diversi sindaci, da diversi colleghi parlamentari ho raccolto proposte che sicuramente andranno a migliorare e modificare questo testo che non è blindato. Quello che mi interessa è il principio di fondo, ovvero sia mettere dei punti fermi sul tema immigrazione e richiedenti asilo, quindi la protezione umanitaria che doveva essere residuale e invece era lasciata la libera interpretazione del caso viene normata con sei fattispecie specifiche e quindi non si può lasciare alla libera interpretazione del sindaco del singolo una scelta così importante se rispondi a una di queste fattispecie hai il documento e altrimenti il documento non ce l'hai. Ci sono alcuni provvedimenti che servono a dare più sicurezza, un richiedente asilo che viene beccato a spacciare droga, a scippare o a molestare un minore ha la sua domanda sospesa e se ritenuto soggetto pericoloso viene accompagnato in un CPR per l'espulsione. Questo ritengo che non leda alcun diritto fondamentale, io ti apro le porte di casa mia se poi tu entrando in casa mia spacci droga ai miei figli con tutta l'umanità possibile ti sospendo la domanda e ti riaccompagno là da dove si è arrivato così come non ritengo che sia fuori dal mondo anzi la possibilità di togliere la cittadinanza a chi l'ha acquisita e poi viene condannato in via definitiva per reati di terrorismo internazionale e quindi mi sembra che sia un provvedimento di assoluto buonsenso. Si rende più spedita la possibilità di espellere soggetti che non hanno diritto di stare in questo paese stendendo fino a 180 giorni la permanenza nei CPR, non è parte del decreto ma arriverà come promesso entro l'autunno anche la revisione dei costi e questo farà piacere a Giuseppe farà piacere anche al ministro Tria, i famosi 35 euro che verranno rivisti in base a quella che è la media europea con un netto taglio delle spese e quindi a bilancio se riusciremo a mantenere questa riduzione degli sbarchi il risparmio medio annuo sarà di un miliardo e mezzo di euro che verrà reinvestito in sicurezza. Non solo immigrazione dicevamo l'antimafia ha un sostanziale passo in avanti con l'apertura di quattro sedi territoriale con l'assunzione di più personale e con la possibilità di valorizzare e vendere dei beni che altrimenti rimangono a carico per anni, c'è la norma che prevede la comunicazione alle questure e prefetture di chi noleggia un furgone, ci sono più poteri alla polizia locale che potrà accedere alle banche dati delle forze dell'ordine e a cui si potrà estendere all'esperimentazione dell'uso della pistola elettrica che tanti risultati positivi sta dando alle altre forze dell'ordine, ci sarà una stretta sulle occupazioni abusivi degli immobili, ci saranno più richiami per i volontari dei vigili del fuoco, ci sarà il pagamento degli straordinari per la polizia di stato quindi in 42 articoli penso che ci siano parecchi passi in avanti in tema di sicurezza e di riconoscimento dei diritti dei profughi veri, vi do gli ultimi dati aggiornati a stamattina, la protezione umanitaria che con questo decreto viene normata in maniera oggettiva e specifica che doveva essere residuale invece riguardava il 26 per cento delle domande fatte mentre i rifugiati erano solo il 7 per cento, quindi era quattro volte il numero dei rifugiati veri, quindi evidentemente c'era un criterio soggettivo che non era accettabile. Dopo le mie circolari questo 26 per cento era già sceso di suo al 21 per cento, i numeri aggiornati ad oggi dopo le disposizioni arrivate dal Viminale danno un 33 per cento di domande di asilo accolte, fatta la somma di tutto e i due terzi invece negati e quindi stiamo valutando con maggior serietà e precisione domande che evidentemente non erano fondate. Da ultimo si sono ridotte rispetto all'anno scorso da 105 mila a 42 mila le domande di asilo e quindi sarà più facile riconoscere tutti i diritti ai rifugiati veri, mentre per quanto riguarda gli sbarchi aggiornati a questo momento, prendo in considerazione il mio periodo al Ministero, l'anno scorso dal primo giugno al 21 settembre erano stati più di 43 mila gli sbarchi in Italia, quest'anno siamo fermi a 7 mila e per me è un risultato assolutamente positivo sia per chi arriva sia per chi ospita, quindi di più non potevo chiedere, penso che sia stato il decreto e Giuseppe lo sa, più condiviso, più comunicato, più aggiornato, più modificato e più ascoltato della storia dei decreti almeno di questo governo e quindi sono assolutamente contento che ci fossero sia il Presidente del Consiglio che il mio collega Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a dare l'imprimatura, quello che è un provvedimento che mira a portare più tranquillità, più certezza, più regole, più buonsenso in questo Paese. Buongiorno Angela Mauro di Huffington Post, la prima domanda è se vi dichiarate sicuri, quindi immagino che informalmente avrete sentito il Quirinale che aveva espresso delle perplessità su alcuni punti del decreto, se vi dichiarate ormai, se avete considerate risolta insomma questa questione e poi un'altra cosa Ministro, lei ha parlato di espulsione o comunque per togliere la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per terrorismo internazionale, la condanna in via definitiva servirà anche per chi è indagato o imputato, cioè verranno espulsi anche coloro per reati minori, perché si parlava solo di primo grado e inizialmente soltanto di anviso di garanzia. Vuoi rispondere tu sul Quirinale? Sul Quirinale le rispondo io, dovete sapere che quando c'è un decreto legge, cortesia istituzionale vuole che al Quirinale si preannunci un po' quei contenuti e ovviamente quando si ha un testo elaborato in maniera sufficientemente definitiva si anticipi anche un testo, questo fa parte del galateo istituzionale, cosa che è stata fatta anche in questo caso, anche perché voi comprendete che sarebbe stato un ford'opera che un testo del genere circolasse su tutte le redazioni dei giornali e al Quirinale non arrivasse nulla, ancorché in via informale. C'è stata già un'interlocuzione e dati i rapporti di gran galateo di correttezza istituzionale che intratteniamo con il Quirinale, quindi questa interlocuzione c'è stata a livello massimo di esponenti e a livello anche di strutture tecniche che hanno continuato a lavorare. Ovviamente non sto dicendo e non voglio tirare per la giacca il Presidente della Repubblica dicendo che il Presidente della Repubblica ha approvato, ha sottoscritto eccetera, sarebbe scorretto dal punto di vista istituzionale dirlo. Il Presidente della Repubblica avrà tutto l'agio quando ci servirà formalmente il testo per fare eventuali ulteriori rilievi. Per i richiedenti asilo è prevista la sospensione della domanda in caso di pericolosità sociale con invio al CPR o in caso di condanna in primo grado. Quindi questa è stata una delle mediazioni suggerite, raccolte e raggiunte. Il tutto, ma ve lo dico anche molto spontaneamente, nasce anche dalla vita reale. Un episodio di cronaca mi aveva portato ad aumentare l'interesse su questo di alcuni richiedenti asilo che a Como avevano massacrato di botte alcuni autisti di autobus e mi si disse però Ministro la domanda deve andare avanti perché questa è la norma, questa è una fattispecie delle tante, a decreto approvato, se il questore riterrà pericolosamente sociale un soggetto che prendendo l'autobus manda in ospedale l'autista perché non gli sta simpatico, questo sarà motivo sufficiente per accompagnarlo in un CPR e cominciare le pratiche di espulsione. C'è anche la verifica dell'autorità giudiziaria, quindi c'è anche un passaggio dell'autorità giudiziaria perché è collegata al CPR. Giovanna Reanda, Radio Radicale. Buongiorno, volevamo sapere che fine faranno gli sparar? Sparar, anche perché nella relazione, magari mi corregga se è un errore, nella relazione che avete inviato, che ha inviato proprio lei come Viminale al Parlamento il 14 agosto, diciamo sembrava che il circuito SPAR fosse un circuito virtuoso, funzionante. Grazie. Prego, il sistema SPAR continua a esistere limitatamente ai casi di protezione internazionale e dei minori non accompagnati. Quindi ci sarà maggior attenzione e maggior cura per un sistema che esiste, per le fattispecie che meritano di essere accolte in questo sistema che oggi invece è anche lì lasciato all'indeterminatezza. Buongiorno Elisa, Saltarelli di Prima Pagina TV. Io volevo fare una domanda in merito ai campi ROM e come intende procedere se è nella chiusura o comunque una rivalutazione di questa sua iniziativa, di questa considerazione. Proprio alla luce dell'ultima notizia di pochi minuti fa che due minorenni, un quattordicenne mi pare un quindicenne, hanno investito una donna e quindi insomma è ritornata un po' viva questa problematica. Grazie. La questione ROM non è ricompresa in questo decreto, altrimenti non oso immaginare le reazioni nazionali e internazionali. Ribadisco che il mio obiettivo, in collaborazione con i sindaci in tutta Italia, è arrivare nell'arco del mandato di questo governo alla chiusura di tutti i campi ROM in ogni città italiana. Quindi non è oggetto di questo decreto, ci stiamo lavorando parallelamente con tutti i sindaci che hanno chiesto l'intervento del Ministero dell'Interno, l'obiettivo è campi ROM zero. Nicola Corda, agenzia giornali locali. Ci può dire quali sono le sei fatti specie di cui ha parlato che normano la nuova protezione umanitaria? Sì. Va bene. Adesso recupero l'articolo e gli elicito uno per uno. Se non ce l'ho davanti... No, perché qua abbiamo cambiato ordine degli articoli e quindi bisogna... Adesso lo recuperiamo. Buongiorno Ministro, Marco Villasci, Repubblica TV. Torno un attimo sulla questione dell'ISPRAR perché in queste ore anche i sindaci hanno espresso preoccupazione per il fatto che diminuendo, come voi ha detto lei e ha annunciato, la popolazione presente all'interno dell'ISPRAR che è il sistema che secondo tutti gli esperti del settore funziona meglio per l'accoglienza. Si rischia invece di andare a aumentare quel bacino di accoglienza straordinaria di casse, di grandi centri che lei più volte ha detto di voler combattere anche perché alimenta spesso il cosiddetto business dell'immigrazione. Allora le chiedo se non c'è questo rischio e cosa risponde a chi solleva questo rischio. Grazie. Il rischio inesistente semplicemente viene anche qua messo ordine in un sistema che ad oggi era assolutamente disordinato e dove c'è disordine c'è spreco o c'è ruberia e quindi i titolari di protezione internazionale potranno continuare insieme ai minori accompagnati a essere protagonisti di questo sistema di accoglienza. Vado a memoria da che sono Ministro abbiamo ridotto di circa 20.000 unità le presenze nelle varie strutture a carico dei cittadini italiani. Quindi l'obiettivo è di garantire tutti i diritti a coloro che i diritti hanno e invece di togliere questi privilegi a coloro che i diritti non ne hanno. Quindi coloro che sono nel giusto sia come amministratori locali che come profughi non hanno alcunché da temere da questo provvedimento. Vincenzo Spagnolo del Quotidiano Avenire. Chiedo al Presidente del Consiglio. Lei ha detto all'inizio, introducendo il decreto, che il decreto comunque è costruito in un quadro di assoluto rispetto dei diritti costituzionali e del quadro dei trattati internazionali. Ecco, nei giorni scorsi l'UNHCR, cioè l'alto commissariato ONU per i rifugiati, ha espresso preoccupazione proprio in merito al rispetto di questi diritti. Le domani sarà alle Nazioni Unite. Come considera queste preoccupazioni? Infondate, fondate, meno fondate alla luce del nuovo testo e per quali ragioni? Grazie. Quando dicevo che noi, questo vale per tutto la politica sull'immigrazione, non mi stanco mai di ripeterlo, e ovviamente anche nel quadro normativo che adesso andiamo a proporre, adottiamo e poi sottoponiamo alle valutazioni del Parlamento in sede di conversione, è un sistema che ovviamente non scardina affatto il quadro degli impegni internazionali e il quadro delle tutele dei diritti fondamentali. Tenete conto, ad esempio, che, come dicevo e anticipavo, il tutto nasce proprio da uno studio sul piano applicativo di quel che sul piano applicativo comporta il sistema delle garanzie attuato da noi e il sistema delle garanzie attuate altrove. Per esempio, abbiamo scoperto che solo Slovacchia e Italia riconoscono la protezione umanitaria, cosa che noi non andiamo a smantellare, ma andiamo a individuare in casi specifici e quindi andiamo semplicemente, senza smantellare alcunché, stiamo semplicemente rilevando che la protezione umanitaria che deve essere marginale, come ha richiamato il Ministro, è arrivata sul piano applicativo al 25-26% e avendo studiato poi i casi di protezione umanitaria, all'interno, quindi bisogna un po' rimboccarsi le maniche e piuttosto che dire prendo il blocco, continua come è stato fatto fino a ieri, bisogna avere la bontà di studiare cose, di analizzare i flussi statistici e di verificare poi le formule di protezione, anche queste che devono essere marginali, eccezionali, come sono state concretamente applicate. Quando lei fa questo studio poi arriva alla conclusione che allora dobbiamo continuare a assicurare questo sistema di protezione, però lo dobbiamo regolamentare un po' meglio, perché così si è prestato anche ad abusi, utilizzi strumentali e via discorrendo. Ecco perché mi permetto di dire che qui noi non arretriamo sul piano delle garanzie e dei diritti fondamentali, semplicemente mettiamo ordine in un sistema che, ciò dobbiamo dire francamente, in Italia come c'è stata un'accoglienza indiscriminata, anche il sistema non tanto normativo forse a livello primario ma addirittura a livello secondario ha secondato questa accoglienza indiscriminata, perché di fatto ha fotografato sul piano applicativo quella che era una realtà che ci siamo un po' trovati crescere, però se permettete, se uno esercita le prerogative di una politica sull'immigrazione e sulla sicurezza, deve anche assumersi la responsabilità di conformare il quadro regolatorio a quello che è rispetto alla politica e alla sicurezza. Detto questo non cacciamo oggi in Italia dall'oggio al domani nessuno. Ovviamente dopo aver definito questo quadro regolatorio andiamo anche a rendere più efficace, e il Vicepresidente Salvini sta lavorando al Viminale in questa direzione, anche il sistema dei rimpatri, perché è ovvio che se poi il tutto ancora una volta rimane solo sulla carta delle previsioni normative, sia legislative che regolamentari e poi non riusciamo per esempio ad essere conseguenti in termini di rimpatri, il sistema avremo ancora una volta un sistema che crea una discrasia tra quello che deve essere sul piano dei principi delle regole normative e quello che è nella realtà. Poi cosa insegna l'esperienza che stiamo vivendo in questi anni? Che se non governiamo la realtà, la realtà ci sopravanza e ci ritroviamo sopraffatti di fronte a una realtà, ecco perché la politica deve assumersi le sue responsabilità. Sono in debito delle sei fattispecie per cui verranno concessi in maniera oggettiva e non soggettiva le protezioni umanitarie. Vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime della tratta, vittime di violenza domestica, vittime di gravi calamità naturali, necessitanti di cure mediche, vittime, anzi protagonisti di particolare, atti di particolare valore civile. Queste sono le fattispecie per cui verrà concesso questo tipo di protezione. Poi per carità un margine di interpretazione c'è pur sempre però almeno si danno dei canoni interpretativi abbastanza rigorosi. A proposito dei rimpatri, giovedì avrò la mia prima missione ufficiale in Tunisia incontrando il Presidente della Repubblica, il Ministro dell'Interno e la prossima che vorrei portare avanti insieme al Commissario Europeo Avramopoulos sarà in Nigeria perché Tunisia e Nigeria sono due paesi con cui c'è particolare frequenza di sbarco e di presenza in Italia e quindi sono i primi due paesi a cui ci stiamo dedicando con particolare attenzione. Dice anche la sussidiaria però e lì ci sono altre fattispecie. No, nessuno toglie niente a nessuno. No, la sussidiaria rimane. Noi non discriminiamo rispetto alle preferenze, questa è la domanda agli orientamenti sessuali. Signor Bonini, Renews24, volevo chiedere se in questo Consiglio dei Ministri avevate anche discusso nel decreto Genova e se ne avevate l'opportunità di tornare con un altro decreto oltre le intese dell'altra volta e oggi è il 24 settembre, il 14 settembre eravamo a Genova e aveva detto dieci giorni per il nome del Commissario, volevamo sapere se questo nome c'è e se stasera il decreto arriverà dal Presidente della Repubblica. Grazie. Per quanto riguarda oggi non si è discusso del decreto Genova in modo più completo decreto emergenze per la semplice ragione che è già passata nel Consiglio dei Ministri. La formula salvointese, non vi inganni, noi non deliberiamo più sul decreto emergenze, semplicemente la formula salvointese consente un attimo di affinare qualche profilo di regolamentazione di dettaglio. Cosa che è successa? Poi in questo caso si è imposta ancora più perché siccome ha un grande impatto su una comunità locale e chiaramente non volevamo farlo, anche qui un po' per cortesia istituzionale con i rappresentanti degli enti locali, città e regione, un po' per motivi sostanziali, qui non è solo cortesia, è che è questione se noi andiamo a raccogliere delle stanze, le traduciamo in termini normativi e poi dovessimo scoprire un domani che non abbiamo interpretato bene le loro istanze, lei comprende che creiamo un cortocircuito, noi non ci gioviamo e i rappresentanti locali ovviamente non rimarranno contenti le comunità locali. È servito solo a questo il salvointese. Detto questo, per quanto riguarda i tempi tecnici, siamo in attesa del riscontro dovuto dagli uffici del MEF, del Ministero, degli ultimi riscontri, confidiamo di inviarlo al Presidente della Repubblica già domani mattina, se i riscontri diciamo si chiuderanno in giornata. Non sono venuto meno alla promessa che ho fatto a Genova, non è che sul palco assumo le vesti di un cantore, poi di un araldo e poi quando ci siamo qui e lavoriamo assumiamo altri panni. Io ho detto se rileggete le mie dichiarazioni avrete il commissario, ci sarà il commissario entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto, non dalla delibera del Consiglio dei Ministri. Quindi dieci giorni per cortesia calcolateli correttamente come ho detto dall'entrata in vigore del decreto. Se poi arriverà qualche giorno prima, noi cercheremo di arrivare qualche giorno prima. Sono Marco Ludovico del Sole 24 Ore, buongiorno. Vorrei sapere se il catalogo dei reati per il quale è prevista la sospensione della domanda d'asilo è stato rivisto rispetto a quello che era iniziale dove era prevista per esempio la violenza pubblica ufficiale. Se è confermata la norma per cui un migrante regolare può essere trattenuto con una procedura speciale anche in un ufficio della Polizia di Frontiera. Visto che mi pare, Presidente, lei ha detto domani, trasmette il decreto Genova, quando trasmetterete questo testo alla Presidente della Repubblica? Allora, confidiamo domani di poter già inviare domani, ma ripeto, stiamo attendendo i riscontri dal MEF e siamo quindi in dirittura finale. Ti rispondo io, per rispetto, un'ora dopo che sarà arrivato il decreto Genova. Quindi un'ora dopo l'arrivo del decreto Genova arriva questo, che è pronto. T'ho detto un'ora dopo, non ho la sfera di cristallo, spero, sì. Presidente Lorenzo Totoro, Bloomberg News, ha detto all'inizio che vi rivedrete questo pomeriggio per parlare ancora della nota General Mental Death. Le chiedo solo se ci sono progressi in positivo, negativo, nell'accezione che lei... Sempre, sempre. Non facciamo arretramenti, solo progressi. L'altro giorno mi veniva chiesto la fumata bianca, ma la fumata bianca, dicevo, è già iniziata, è tutto un fumo bianco che si sta allevando dai miei uffici ogni volta che ci incontriamo. Eh sì, certo. Questa settimana, il 27... Facciamo una foto per i fotografici. Adesso? Non è il giorno prima, ma questa settimana. Quindi cosa facciamo? Ci alziamo in piedi. Col decreto. E dov'è il decreto? E non c'è il decreto. E qua sotto il decreto. Ma che bene. Partiamo da sinistra. Andiamo al centro. All'estero non c'è nessuno. Così? Evviva. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro. Non lasciare mai. Grazie a tutti